Cosa ci fai qua? Sono con le pecore. Come ti chiami? Mariano De Lime. Non lo sai che un pastore bravo non le lascia mai le pecore? Lasciatemi stare! Tenerlo, tenerlo! A correre già sei bravo, eh? Allora dammi da fumare. Non hai paura di stare solo? Non ho paura di nessuno. Così non è tua. Già ve l'ho detto, l'ho trovata in istrata. Come ti chiami? Non ne so. Indovinate voi, vi pagano apposta. Lo conosco io. È Mariano De Linna. Care tu! È stato De Linna. De Linna. Mariano. Mariano. Dove sei? Mariano. Ehi. Mariano. Mariano. Hanno ucciso Egidio, fratello nostro. È stato Pasquale Potter. Ehi. Funny. Come ti chiami. Come ti chiami? fare. Ti sei compromesso anche troppo per vendicare la nostra famiglia. Li uccido tutti. Tutti, io li ammazzo. Fratello per fratello. E' stupendio, non stupendio. Filippo, non stupendio. Filippo, non stupendo. Filippo, non stupendio. 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 Svegliami per la cena. sempre stupendio. Filippo, non stupendio. Filippo, non stupendio. Filippo, non stupendio. Filippo, non stupendio. Filippo! Che talante? Mano邊. Ma che cacchio fai? Mi piace molto la educazione fisica, perché, per scappare, molto difficile, mi sembrava. In la legione mi facevano correre, caminar, saltare, mi veniva il vòmito. Compa, lasciami in pace. Come vuole usted, non volevo molestare. Su, andiamo. So, 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 andiamo a fare la guerra. такая guerra. Pensi che credo tutto quanto? Tu hai buscato cinque mesi, cinque mesi solo, e mi chiedi di venire con me. Chi ti ha detto che io voglio fuggire? Io sto bene qui Se volevo fuggire a quest'ora Vamos, Mariana A me ti puoi fidare Io sono nobile E allora? Io amo Ventura Cinque mesi qua dentro E' impossibile Io divento matto Intendi? Matto Noi dobbiamo scappare Ti ho avvisato Lasciami stare Noi dobbiamo scappare Questa tua Noi dobbiamo scappare Noi dobbiamo scappare Ripare Questa Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Fai buona guardia. a tutti. ma... ce l'ha dipinto. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. vedrai. ... ... ... a tutti. 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 ... 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 后... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Non mi vuoi fregare Perché non siete mascherati? Perché non ci avete bendati? Ci avete presi per ammazzarci allora? Stia tranquillo e si riposi e c'è ancora molta strada da fare Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Venga qui Guardi un po' Si vedi? Potrei farne una carneficina www.mesmerism.info Cerca, cerca, tanto non ci troverai mai. Cento milioni. Ci siete impazziti. Ma io! Armand! Che fai? Avanti. Scriva! Volete ridurre alla fame la mia famiglia? I miei figli? Preferisco che mi ammazziate. Ma che figli? Lei è scapolo e c'ha una montagna di soldi nella banca. Tutto è frotto, le vi hanno raccontato. Ora ho capito. Io non potrò pagare. E così voi sarete costretti ad uccidermi. Questo è ciò che vuole chi vi ha consigliato di rapirmi. Morto mi vogliono. Non ho famiglia. Io ho moglie e tre figli. Visto avete? E vivo del mio lavoro. Ma noi non vogliamo uccidere nessuno. Vogliamo solo prenderci i soldi. Quanto alle vendette, ognuno si faccia le sue. Garantisco io per la sua vita. Stia tranquillo. e firmi se vuol tornare a casa. Firmi per i suoi figli. Tornerò presto. Aspettatemi la roccia grande. Va bene. Aspettatemi la roccia grande. se i suoi familiari le vogliono bene pagheranno ora bisogna aspettare se voi mi lasciate andare vi farò avere tutto il denaro che potrò racimolare i miei non riusciranno mai a procurarsi il denaro sufficiente mi potrete riprendere se farò il furbo beh, troppo facile la vuoi fare colmati Giuseppe pazienza ci vuole e la barbage è diventata un paese di questurini ma a noi non ci fa nulla perché ci muoviamo sempre e poi quelli non ci vengono a caccia fino a qui non le capiterà nulla, stia tranquillo non la uccideremo e non ci pensi troppo a sua moglie e ai suoi figli lei non ci andrà in giro a chiedere le lemosina anche se avrà sborsato qualche milione danno non ne avrà se la cosa resterà tra noi quanto vogliamo possiamo tenerla qui tanto non riusciranno mai a trovarci domani vedremo a parlare con gli altri pare che i suoi si sono decisi fra poco sarà libero mangi che viaggia a lungo lei vuole vivere tranquillo, no? e allora se lo ricordi che ha giurato di non comprometterci non ci vediamo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sei contenta? Mariano, io la vorrei avere una vita normale, come tutti gli altri. Una casa. I figli. Se tu mi vuoi, io ti sposo anche così. Non devi preoccuparti, Mariano. Anche se dovessimo vederci poche volte. Sempre meglio che niente. Non voglio farti la vita infelice. Troppo male ho già fatto a tutti i miei. Ma io sono felice. Sono felice con te. Non lo capisci. Certo era diverso se potevo starti vicino sempre. E' impossibile, lo sai. Basta che per un po' un uomo campa lassù e si frega per sempre. Ma ora non pensiamoci. Siamo ancora vivi. Ehi, è un'ora buona. Ma, ne avevi le cose da dire alla tua Stefania? Niente di nuovo? No, il nostro amico non si è visto. Ha mandato a dire che starà a por domani. Fatene a dormire. Io questa notte me la voglio godere. Mi ricordo quando ero pastore. E giravo fino all'alba con le pecore. E che facevi oltre che andare in giro? Pensavo, quando avrò pecore mie, io mi voglio comprare un pascolo. Non ne voglio sapere di quei ladri che affittano. Si fanno vedere solo per riscuotere. E per mangiare a sbafo alla tua tavola le cose tue. Mi ricordo che mio padre preparava vino. E uccideva l'agnello migliore. E io me ne stavo a guardare con l'acqua in bocca. E quei maledetti che uscivano da cena gonfie e rossi allentandosi la cinghia dei calzoni. Sicuramente quegli uomini non dormono calzati e vestiti. Eh, miserabili. Gente che non sape la guerra. Mia madre mi raccontava che durante la guerra civile andavo a letto vestita. Era hermosa mia madre. Una vera signora. Forse se ci fosse stata lei è morta giovane. Ma non si può dire. Per fortuna i morti stanno ciechi e sordi. Te lo immagini se vedessi la fine che ho fatto. Tu non sei più disonesto di tanta gente riverita che va sui giornali. Ehi! Non crederai schiavi dei rimorsi. È che pensavo a mia madre. No, amico. Mira cosa faccio. Da chi mi vuole male. Tu! Ma no, mi vuole non sei più disino. Ma no è qui sa chiavi ma oggi. No, è qui si sona che ciava è che così. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tu vieni con me. No, 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 no. No, 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 no. Sì. Sì. Lasciateli venire di più. Sì. 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 Proprio addosso ce li siamo trovati. Coglione! Te l'ho sempre detto di fare attenzione! Tu e la tua mania di sparare! Ma i soldi sono qui! Eccoli qua! Te li abbiamo portati, no? Ma non ci sono abbastanza soldi per pagare la nostra pelle. Venga, venga. Bene, bene. Lei è Stefania, la donna di Mariano. Ma sa che un assassino, un ladro, un ricattatore, eccetera, eccetera. Non poteva scegliersi un bravo giovane. Ce ne sono tanti in paese che sarebbero felici di sposare una ragazza come lei. Si sieda, prego. Parliamo un po'. Voi uscite. Ora siamo soli. Cosa le dicevo? Ah, sì. Che una ragazza come lei non può scegliere di essere la donna di un bandito destinato alla guerra vita o alla morte. E ormai... È questione di giorni. Ha visto quanti siamo? Ha letto i bandi di cattura? Sono ovunque. Chi vuole che non ci faccia un pensiero su quei dieci milioni? Crede proprio che anche per gli altri il suo uomo sia così prezioso? Lo so, certo. Per dieci milioni si trova sempre un disonorato pronto a tradire. Ma che disonorato? Semplicemente uno che aiuta la legge e l'ordine. Come quei ragazzi che lei ha visto là fuori. Ma se la legge fosse stata giusta, neppure Mariano avrebbe né ucciso né rubato. Questi discorsi li conosco, non giustificano un bel niente. Ci dica piuttosto dove possiamo trovare lui. Vede se lei ci aiuta, quei soldi saranno suoi. E magari molti di più. Poi le daremo anche una bella casa incontinente. Lontana da qui. Là le donne come lei non nascono vedove. E ne avrebbe da godere con tutti quei soldi. Cercatevelo da voi. Va bene, va bene. Ci ripensi alla mia proposta. E se cambia idea, mi venga a trovare. Faremo in modo che nessuno ne sappia nulla. Stia tranquilla. Ci pensi. Io l'aspetto. Abbiamo. Vene. Vene. Tommi. Tommi. Vene. 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 Sì, grazie Ah, è toccato, insistono per quell'intervista Vengo Il giornale è importante, chiedi molto Salute Alla vostra Salute, salute Certo che è una vita dura, signor Delinna Non deve essere facile vivere ai margini della società Opporsi alle leggi comuni, tutta la polizia contro Ci sono uomini che crescono con la paura E altri che crescono con la voglia di fare loro paura Da noi i ragazzi Giocano ai banditi E nessuno vuole fare il questurino Si vanno nascondendo e rincorrendoci da una casa all'altra Fanno finta di sparare Si bastonano E chi li vede? Invece di dargli un calcio nel culo Li incita Perché devono imparare a camparsi la vita E a difendersi dai ricchi Dal gelo Dalla povertà E dalla giustizia Possiamo fare qualche foto? Sì Lo sa quanti delitti le vengono attribuiti? Non ha paura di vendette? Le colpe che ho io le conoscono tutti Ho rubato per fame E ho ucciso per vendetta E ora mi faccio la pensione per la vecchiaia Qui siamo tutti nella stessa padella Però se uno devono incolpare Pensano sempre a me Forse perché sono il più forte O forse perché Quando la giustizia non ce la fa A sciogliere i nodi imbrogliati Trova comodo Scaricare tutto addosso all'attitante Lo Stato poi Ha peggiorato la situazione I sistemi che sta adottando Sono proprio quelli che non vanno Ma insomma voi siete banditi Ammettete di sequestrare delle persone E di esigere dalle famiglie il riscatto Che cosa volete che faccia lo Stato? Noi non siamo banditi Nel senso che intendete voi La nostra non è un'azione di delinquenza Ma di giustizia sociale Noi non facciamo questa vita per male Abbiamo bisogno di denaro Perché non c'è lavoro E siamo poveri di tutto E la ricchezza è male divisa E il governo aiuta i ricchi E noi Ci difendiamo come possiamo I soldi li andiamo a prendere dove ci sono Non dubiti E quanto tempo ancora crede di durare? Beh, se scendo in paese posso trovarci ancora molti amici Anche se qualcuno avrebbe piacere di vedermi morto Non lo so quanto durerò Non me ne importa Piuttosto scriva che tutto il male di questa terra non sono i banditi Voi ve la prendete Non è così comandante? È tardi, dobbiamo andare Tu, accompagnali fuori Arrivederci E grazie, signor Bellina Tutta scomedia Alla gente Gustano molto le storie del sangue Specie quando noi sta dentro E la stampa Sabe finalmente come riempire le pagine dei giornali E la sombra politica Si mostrano preoccupati, isolanti E si prendono i voti degli elettori Todos Che guadagnano Con eso È proprio così, Mariano Ehi, amico Coraggio Non durerà per molto Questa sporca vita Paranozotto lo stesso scritto che Un giorno o l'altro staremo liberi No, se sfugge al destino Idioti Come se sotterrando a me potessero Risolvere tutti i nostri problemi 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 divisioni dell'esercito si batte così la zona palmo a palmo si perquisiscono tutte le case viene vietato l'accesso a chiunque nella zona malata e si spara a vista sparare a vista contro chiunque amari estremi estremi rimedi potrebbero usare anche gas asfissianti la farebbero finita una volta per sempre con tutti questi delinquenti allora caro comandatore salterebbero fuori come topi e se non bastasse potrebbero lanciare anche i parà le assicuro che quelle sistemerebbero tutto in 4 e 4 8 perché vede il fatto grave è che questa gente insulta tutti noi italiani noi che abbiamo combattuto tutte le guerre e che abbiamo sempre lavorato sodo perfettamente ragione caro comandatore un vero insulto a tutta la gente onesta un vero insulto a tutta la gente non è un vero insulto a tutta la gente che non è un un vero insulto a tutta la gente non è un vero insulto a tutta la gente non è un vero Grazie a tutti. 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 Salvate. Grazie a tutti. Lasciamolo qui, in luogo scoperto Perché non vuoi assotterrarlo? O a loro lo lasciamo? Ci ingrasseranno più loro che le mosche su questo morto Se lo trovano lo rimanderanno al suo paese, come voleva lui Non avranno altro per la testa che a rispedirlo in Spagna Maladia a suo coro Basta! Adesso per te basta urlare I compagni sono stanchi Nervosi I compagni sono stanchi I compagni sono stanchi I compagni sono stanchi In paese ci sono molti stanchi di te I compagni sono stanchi di te I compagni sono stanchi di te I compagni sono stanchi di te Tandeddu Tandeddu Francesco Perché ci vai? Cosa ne hai da fare? Lasciala stare quella donna Che così fai male a te A lei E a tutti quanti noi Che così fai male a te 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 Grazie a tutti. 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 Siamo stati sempre assieme. Tu sei stanco, indeciso. Abbiamo contro tutta la giustizia. Non possiamo adorare in eterno. Ci prenderanno. Noi ti siamo ancora fedeli, tu lo sai. Voi sì, ma gli altri. Quanti sono ora disposti a vendermi? A volermi morto. Tutto è maturo, Giuseppe. E quando è un frutto matura deve cadere. Pedro diceva... ognuno ha il suo destino ha il suo destino scritto. aveva... qui non è un'altra... qui non è un'altra... Mariano, noi ci spostiamo. tu lo sai, tu lo sai dove... ci puoi raggiungere. Ci puoi raggiungere. la puoi aiutare consegnandoti. I quattrini fanno comodo a tutti. No! Meglio morto che in galera. Meglio morto che in galera. Meglio morto che in raggiungere. Meglio morto che in galera Quest. Agile morto che da quest'esposti! E mentre in raggiungere tui... Noi... ... ... ... ... ... Grazie. Per favore, fate passare. Largo. Argos. 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 Come on. Come on. Ma la mia terra non dà grano e tu non mi dai una mano, corri dietro ai tuoi grandi sogni e non ti accorgi che lasci me morire. Giorno per giorno, aquila fiera colpita al cuore, alta sui monti, lo sguardo al sole ma non cadrò. Morire giorno per giorno, albero grande, ferito dentro, mi brucia il sole, mi piega il vento ma non cadrò. E tu vai sulla tua nave bianca vai, ma vedrai se tu i miei frutti coglierai. Sentirai l'amaro sapore dell'odio e del dolore, perché tu hai ucciso l'amore dentro di me, dentro di me. Morire giorno per giorno, albero grande, ferito dentro, mi brucia il sole, mi piega il vento ma non cadrò.